22 giugno 1946 Entra in vigore il decreto presidenziale di amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, avvenuti durante il periodo dell'occupazione nazifascista. La legge è proposta e varata dal segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, ministro di Grazia e Giustizia del primo governo De Gasperi. Il provvedimento, che prende il nome di Amnistia Togliatti, comprende il condono delle pene fino a cinque anni per reati comuni e politici. L'intenzione del leader comunista è quella di favorire la pacificazione nazionale, per evitare che l'epurazione rallenti ulteriormente la ricostruzione materiale del paese. Ma il provvedimento finisce per tradursi in un vero e proprio colpo di spugna per tutti i reati e i crimini commessi dai fascisti. Migliaia di ex membri del partito fascista vengono liberati dalle carceri o esonerati dai processi. Il provvedimento di Amnistia scatena fin da subito malumori e tensioni, soprattutto nel nord Italia, dove la lotta di liberazione è stata più dura rispetto ad altre parti del paese. Le polemiche provengono soprattutto dall'associazionismo partigiano e dai perseguitati politici antifascisti, che non accettano di buon grado la scarcerazione di chi ha commesso reati particolarmente efferati. L'intenzione di Togliatti nel perseguire la pacificazione nazionale è quella di accreditare il partito comunista italiano come una forza politica moderata, pienamente inserita nell'arco costituzionale e non un partito sovversivo in grado di provocare insurrezioni. Una strategia che però avvita breve. Solamente un anno dopo, nella primavera del 1947, De Gasperi nel formare il terzo esecutivo della Repubblica Italiana estromette le sinistre. Da quel momento il partito comunista italiano non farà mai più parte di una maggioranza di governo. Grazie a tutti.